Per quello che riguarda me, me l'ha detto il mio terapeuta dopo quando gli raccontavo come ero stato nei mesi precedenti, mi ha detto che ha attraversato una depressione fortunatamente breve di qualche mese e quello che mi succedeva era che non davo più valore a niente, non davo più valore alla musica, non davo più valore a me stesso, non davo più valore alla vita, cioè smetti di dare il valore alle cose, cioè niente conta più, diventa tutto quanto freddo, letteralmente, ed è per questo che ho chiamato la canzone nel posto più freddo, perché era tutto quanto privo di significato, cioè nel senso niente ha più valore. Devo dire che in questo la musica mi ha letteralmente salvato la vita, perché scrivendo, buttando fuori mi è ritornata quella sorta di cazzimma, quella sorta di passione, come dire, fare musica mi faceva stare bene. Ti ha smosso dentro. Mi ha smosso dentro e credo che la chiave sia cercare di ricordarsi, di amarsi il più possibile. Cioè devi proprio colarti, volerti bene, quando nessuno lo fa per te devi farlo tu.